Allora, questa qua è la preparazione per la stucatura delle piastrelle. Si prende un po' di acqua, si versa e deve essere proprio mole mole, non deve essere duro perché deve entrare nelle fughe delle piastrelle. Si prende, si mischia e lo stucco deve essere mole. In modo, quando si dà su, penetra dentro, penetra bene nelle fughe delle piastrelle. Si gira bene in modo di tenere un pasto omogeneo. Aggiungiamo un po' alla volta, fin di tenere il nostro risultato. E' ancora mole, non deve neanche essere proprio mole mole perché dopo non si riesce a metterlo su. Più o meno ci siamo. Ok, adesso ci siamo. Questo, vedi, è un pasto. Come un po' di tenere. Grazie.